In questo video risolverò un esercizio di matematica tratto da questo libro. Se qualcuno vuole trovarmi per chiedermi qualche esercizio, mi trovo facilmente con il link in descrizione. Un numero sommato ai suoi tre quarti è uguale al suo doppio diminuito di 6. Qual è il numero? Qual è il numero? Intanto quindi abbiamo un numero che non conosciamo e che chiamiamo x. x è il numero che vogliamo trovare. Questo numero sommato ai suoi tre quarti, quindi il numero più tre quarti volte se stesso, è uguale al suo doppio diminuito di 6. Quindi andiamo a collegare tutte queste espressioni qua. Un numero corrisponde a questa x Sommato ai suoi tre quarti, questa parte qui, è uguale al doppio diminuito di 6. Ecco qua. Quindi, abbiamo visto che questo problema dà vita ad un'equazione di primo grado. Il nostro obiettivo adesso è risolvere questa equazione di primo grado. Come fare? Come abbiamo fatto fino adesso? Andiamo a trovare la x. Per sbarazzarci di tutti i denominatori, in anticipo, andiamo a moltiplicare tutto per 4, che è il minimo comune multiplo. Quindi avrò 4x più 3x uguale a 8x meno 24. Adesso notiamo che in totale abbiamo quante x? Allora, qui ne abbiamo 7, però ne dobbiamo togliere 8. di conseguenza avrò meno x uguale a meno 24. Ma, ovviamente, essendo presente il segno meno ad entrambi i membri dell'equazione, lo posso togliere e ottenere immediatamente il risultato che aspettavamo. Se il video ti è piaciuto, metti like e seguimi sui vari social per aiutarmi a crescere. Se invece non ti è piaciuto, metti dislike due volte. Alla prossima!